in direzione allo stadio di Siderno con Mirko Audino Mirko è stata una partita sicuramente combattuta avete vinto voi nel finale con il punteggio di 2 a 1 che sensazioni però hai avuto insomma è stata sicuramente una partita dai nervi saldi è stata una partita tirata siamo partiti male perché abbiamo subito gol su un calcio da fermo e non ce lo possiamo permettere poi siamo stati bravi nel secondo tempo a scendere con Grint in campo e farci valere certo le due espulsioni in situazioni di classifica in cui siamo non ce le possiamo permettere dovevamo stare attenti, tenere i nervi saldi però oggi la squadra è partita male però poi è risalita quindi prendiamo questi tre punti per la classifica e per il morale quindi penso sia giusto difatti siete partiti in svantaggio 0-1 per Corigliano nel primo tempo poi essendo questo in questo momento del campionato un scontro salvezza possiamo dire cosa vi siete detti nello spogliatoio perché qual è stato il motivo della vostra reazione? d'orgoglio? ma penso che non servono parole poi lo capisci solo queste sono partite una diretta concorrente per la salvezza quindi non potevamo fare dei passi falsi quindi i tre punti sono ottimissimi a questo punto e quindi ce li prendiamo pensiamo a lavorare in settimana perché stiamo facendo un gran lavoro e non ci meritiamo questa classifica però dobbiamo lavorare solo fino alla fine grazie a tutti grazie a tutti